Oggi vi presentiamo la Christmas Blend, una miscela dedicata al Natale, una limited edition che abbiamo creato su Caffè Lab per le vostre tazze di caffè durante le feste. Ecco la Christmas Blend, è una miscela composta da solamente tre caffè, tre origini diverse per tre diversi continenti, Sud America, Colombia, Finca la Lindura, Centro America, Messico, Finca la Cicciarras, Asia, Sumatra, Gaio, Highland, sono tre caffè di specie arabica, una miscela dedicata al Natale con aromi in tazza, in espresso, di biscotti al buso, cioccolato fondente, arancia candita e specie. La nostra Christmas Blend è perfetta se estratta con una macchina da espresso, ma può essere preparata con ottimi risultati anche con una bella caffèchiera mocha.